C'era una volta, tanto tempo fa, un cavaliere con il suo cavallo. Sono il principe e sono venuto a salvarvi la vita. Dovete sapere che c'è una creatura malvagia che vuole uccidermi. Per voi andrò ad ucciderla. Se vi ha detto di uccidermi, è lei la strega. Cosa c'è di sbagliato in questa storia? Non potreste darmela senza uccidere nessuno?